Viviamo in una società dove il concetto di giustizia è definito da opinioni contrastanti. Per questo è il momento di fare la differenza. Abbracciando un potere che supera ogni confine ed ogni logica, a discapito dei nostri stessi desideri e rincorrere quell'utopia che ci porterà a vivere un'esistenza perfetta e indistruttibile. Change, un'app dal potere temporale inconcepibile, non si sa per cosa sia stata creata e né da chi, ma si sa solo che è un potere che, nelle mani giuste, potrebbe avvicinare l'essere umano al concetto di Dio. Solo che, chi può essere tanto ambizioso da voler affrontare un Dio? Non so se sarò pronto a superare i miei limiti senza perdere la testa. Mi aggrapperò assalto a quell'egame di fiducia reciproca che ho costruito nel tempo, che mi dà ancora speranza fino alla fine, anche quando tutto sarà buio, anche quando avrò ha bruciato tutte le mie chance e perso ogni ragione di vita.